Claudio Bandolfi e la simpatia, qual è il tuo rapporto? Guarda, io sono sempre stata considerata un po' un pagliaccio, questo a volte non depone a mio favore perché in certi contesti risolvo proprio con l'umorismo che a volte diventa un po' sarcasmo, devo dire la verità, però nelle questioni più difficili della vita spesso con l'ironia se ne esce fuori. Hai fatto ruoli molto duri dove non sembri così spiritosa, ma forse hai ruolo. E' vero, è vero, sempre c'è stato questo film noir a questo punto, di ruoli molto seri, istituzionali, di donne molto centrate e poco sorridenti. E io ho sempre sperato invece di fare ruoli un pochino più giocosi, più... Ti vedono così? Non lo so, c'è stato un periodo della vita in cui mi vedevano così, adesso invece le cose stanno un po' cambiando. Ma infatti... No, no, scusami, sto facendo una serie che si chiama È arrivata la felicità, quindi capito, forse c'è, in questo titolo c'è forse il destino. Quando vai in onda? Ma andrà in onda sul Rai 1, credo a ottobre, ancora non è stato deciso, però mancava. Il premio Simpetti gli ha ben meritato. Beh, guarda, meglio di così. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Ciao. Ciao.